Allora niente, ha aspettato il sotturro. Sentite una cosa, questa qua è una cosa che non è costituzionale, cioè fino a 65 anni e gli altri dopo 65 anni possono morire. E tu capisci? Tutte le persone dopo 65 anni possono morire. Gli over 65 si sentono abbandonati e penalizzati. In fila da questa mattina presto centinaia di anziani in possesso del certificato del medico di famiglia che sosteneva la necessità del vaccino per l'influenza. Un'attesa anche di ore risultata inutile, considerando che l'ordinanza della regione Campania, secondo anche quanto spiegato dal responsabile del centro vaccinale dell'ASLA Gaetano Morrone, non dispone il vaccino dell'H1N1 per i soggetti che superano la soglia dei 65 anni. Un chiarimento questo che ha scatenato la reazione di molti anziani che invece avevano avuto dai medici di base, indicazioni diverse. In questi momenti di allarme e tensione, insomma non aiuta la confusione che c'è tra influenza stagionale e influenza A e il vaccino rischia di esaurirsi presto. In 5 giorni distribuite già 450 dosi di H1N1, 5.000 invece i vaccini di influenza stagionale consumati in un mese. Una cifra questa raggiunta l'anno scorso, ma per tutto il periodo invernale. Noi siamo tutti, i cittadini, siamo tutti uguali, capito? Ma aera la televisione ha detto che un uomo di 75 anni è morto, ha disintito la televisione, e allora? Ma aspettavo prima che morimo e dopo ci venivano a fare la puntura. Per me mi hanno fatto aspettare, poi non hanno fatto, perché mio marito... 65 anni, non lo... Mio marito tiene 85 anni, perché non gli hanno fatto, era obbligatorio, perché non lo fa? Ma il suo medico, quello di famiglia, cosa le aveva detto? Ha consigliato di farlo, sono venuti qui e invece non l'hanno rilasciato. Io ho 66 anni e quando è lunedì me la vengo a fare. Il problema è uno, che hanno fatto una prescrizione per H1N1, per le patologie, però stamattina qua mi dicevano che le persone che hanno a disopera dei 65 anni non possono essere vaccinate, quindi stiamo aspettando la responsabilità che arriva per avere delle modizie più certe.